La città di Teramo si sta trasformando in un vasto cantiere a cielo aperto, un'immagine evocata dal sindaco Gianguido Alberto per descrivere la situazione attuale del centro storico. Ma durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale l'opposizione ha attaccato la Giunta sollevando questioni relative ai disagi causati dai numerosi lavori in corso, dalla mancanza di parcheggio e la gestione dei siti culturali fino al decoro urbano. Il fulcro delle lamentere dell'opposizione è Piazza Verdi dove l'avvio dei lavori dell'ex mercato coperto e l'imminente cantiere del Braga hanno notevolmente ridotto i parcheggi disponibili causando spesso situazioni di sosta selvaggia. Sono stato contattato da diversi commercianti della zona che lamentano un calo di fatturato dovuto al fatto che è venuto a meno il parcheggio di Piazza Verdi. A differenza delle rassicurazioni date in una precedente interrogazione consigliare dall'assessore Filippone e dall'amministrazione, la parte del parcheggio di Piazza Verdi dinanzi al Braga doveva essere lasciata come parcheggio e invece viene utilizzata come area di cantiere a servizio dei lavori del mercato. Sono stati messi una ventina di posti liberi ma a tempo. Non essendo fatti i controlli la sosta lì rimane per troppo tempo, non c'è rotazione e quindi c'è una difficoltà per i commercianti da un lato per avere la clientela che può arrivare in quella zona e per i residenti dall'altro perché tra le imparcature e le aree di cantiere hanno perso quasi 50 posti di parcheggio. Il sindaco D'Alberto ha risposto sottolineando che la città sta vivendo un periodo di significativo cambiamento e che i disagi sono una conseguenza inevitabile di questo processo di ricostruzione che si prevede durerà per i prossimi anni. La città Teramo è oggi una città cantiere e lo sarà da qui al 2026. Una città in profonda trasformazione grazie all'enormità di finanziamenti che abbiamo intercettato nel corso di questi anni sia per la ricostruzione che per il PNRR. Quindi avremo una fase in cui dobbiamo lavorare insieme accelerando ma anche progettando e pianificando sulla base della linea che abbiamo definito i contenuti oltre che i contenitori. Ieri l'opposizione era un po' confusa perché c'era un pezzo di opposizione che diceva no fermate i cantieri perché non possiamo creare troppo disagio e altra che invece si lamentava dei tempi. La verità è che dobbiamo assolutamente proseguire nella strada che abbiamo tracciato e inevitabilmente ci saranno disagi. Il termine e la definizione della nuova città che comunque abbiamo costruito nel finanziamento e nella pianificazione è il 2026 che poi è il termine di scadenza del PNRR come è noto ma anche il termine di una buona parte di interventi sulla ricostruzione.